Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Gloomhaven Jaws of the Lion in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia che io ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto questa copia del prodotto ed è sempre un grandissimo onore poter collaborare con voi. Gloomhaven Jaws of the Lion è quella che sembrava, almeno quando l'hanno annunciata, un'espansione ma in verità è proprio un prodotto stand alone nella stessa ambientazione di Gloomhaven che vi ricordo essere un gioco di ruolo su larga scala, un board game slash gioco di ruolo su larga scala veramente che lo fa sembrare un vero mondo, un open world, detto anche un po' in termine videoludico tutto completamente da esplorare perché nel gioco base si parla addirittura di un centinaio di missioni più ovviamente anche poi le altre espansioni che sono uscite e che vanno ad allargare il parco di missioni ed una storia personale per ciascun personaggio che dovrete seguire e che verrà rivelata mano a mano e passo dopo passo che andrete avanti nell'avventura. Un prodotto talmente grande che la stessa mappa potrebbe essere differente a seconda della stanza intrapresa rispetto a quella di un altro gruppo e un'altra cosa bellissima è che sulla mappa ci sono anche in questa edizione degli adesivi da staccare e da attaccare sulla mappa per le zone appena scoperte che il gioco ti dirà appunto dove andarle a porre ed è veramente un titolo molto interessante in questa variante che vedete qui è una versione ristretta ma bene o male regolamente è sempre quello ve ne parlo a breve dopo la sigla Gloomhaven, Joes of the Lion, edizione italiana a cura di Asmode Italia tra l'altro apre una piccola parentesi perché sta per uscire anche in versione digitale e vi consiglio di prenderlo perché se andate su Steam e vi lascio il secondo link in descrizione trovate direttamente Gloomhaven in versione digitale quindi per computer io ce l'ho ed è fatto, tanto ringrazio Asmode Digital per avermene mandato una copia bellissimo, veramente ragazzi bellissimo al pari del gioco da tavola infatti la gente è impazzita hanno detto avete fatto la trasposizione perfetta grande ci siete riusciti e sta per uscire anche il DLC Joes of the Lion in questa edizione rispetto al Gloomhaven normale cosa cambia? nel Gloomhaven normale abbiamo tutti quanti i tile di gioco dove noi andiamo a comporli, ad incastrarli a seconda dell'avventura che dovremo andare a giocare quindi del dungeon o del posto che dovremo andare ad esplorare in Joes of the Lion invece si gioca sul libro delle missioni un po' se vi ricordate come nel bellissimo Fiabi di Stoffa Staffed Fables dove la mappa di gioco era direttamente nel libro libro che noi andavamo a leggere ora come vedete poi dal video nella storia, la parte prima la storia e il setup della missione corrente e poi aprendo le due pagine ci sono direttamente le caselle dove andare a muovere i nostri personaggi ed è una trovata secondo me geniale perché fonde tre giochi il board game, il gioco di ruolo e anche il libro game perché non lo so il fatto di doversi muovere su un libro secondo me un po' mi va a suscitare quella voglia di scoperta che c'era appunto nel libri game di Joedever anche un po' il fatto di sfogliare le pagine e di leggere sul libro boh non lo so è bellino a me piace molto l'idea di un campo di battaglia organizzato e rappresentato su un libro magari a quel punto lì anche non lo so andiamo a esplorare un'altra zona si gira direttamente la pagina e si va nella zona successiva senza dover stare a rimontare mappe cercare tile in giro per la scatola quindi una cosa che praticamente a me piace molto e spero che la espanderanno anche per altri giochi e come dicevo in questa versione stand alone non fondamentalmente perché è una stand alone da non confondersi con le espansioni precedentemente uscite per Gloomhaven questo è proprio un gioco a parte e le regole sono le stesse le regole noi abbiamo il nostro personaggio che mano a mano missione dopo missione passerà di livello e avrete la possibilità di registrare un po' come il vecchio HeroQuest sulla sua scheda che le trovate anche all'interno o le scaricate direttamente dal sito il livello, i punti ferita, i soldi l'equipaggiamento e tutte quante le informazioni poi essenziali e uniche del vostro personaggio avete varie classi ci sarà il classico guerriero il castante il ranged il ladro che trova magari più facilmente le trappole e ciascun personaggio all'inizio ha delle carte di livello A che sono le carte del mazzo di partenza che poi passando di livello diventano B e altre lettere più forti praticamente semplicemente vengono sostituite a quelle che stavate usando in mano e in questa mano di sei carte almeno che regola particolare non dica qualcosa di più o di meno di queste sei carte voi all'inizio del turno dovete sceglierne sempre due di cui una sarà la vostra iniziativa e metterle coperte Gloomhaven, Joes of the Lion è un gioco unicamente cooperativo non c'è il PvP quindi però voi comunque dovete giocare a carte coperte e rivelarle dopo anche agli altri seduti al tavolo del vostro party quando voi andate a pescare due carte vedete che al centro delle carte c'è sempre un numerino la carta con il numerino più basso la dovete mettere sopra e questo vuol dire che sarà la vostra iniziativa ovviamente agisce prima l'iniziativa più bassa quindi se i mostri hanno 50 il vostro compagno ha 30 e voi avete 15 voi partirete per primo il vostro compagno per secondo e i mostri per terzi quando si va a fare l'azione semplicemente si va a scegliere tutte le carte hanno un'azione sopra e un'azione sotto noi dobbiamo scegliere una sopra e una sotto quindi se dalla carta A che abbiamo messo scegliamo quella sopra dalla carta B dovremmo scegliere per forza quella sotto non possiamo scegliere tutte e due sotto tutte e due sopra per invertire un po' le azioni e le azioni sono semplici attacco quindi si guarda il valore della carta danno 4 quella carta fa danno 4 però dovete girare anche una carta modificatore che potrebbe alzarlo, incrementarlo o abbassarlo quindi ci sta che invece di fa 4 più 1 fa 5 meno 2 invece potrebbe fare invece di 4 o 2 quella è una carta casualità che se no uno saprebbe sempre quanto fa di danno invece con la carta modifica non sai mai effettivamente se ve ne andrà a sconfiggere il nemico oppure no quindi nella carta ci sarà scritto magari muoviti di 3 tile ti puoi muovere di 3 tile ma anche non muoverti o muoverti di 2 e a quel punto prendi la carta e la scarti con la seconda carta invece vai a fare quello che c'è scritto nella sua azione che se ha scelto sopra in quell'altra dovrà essere per forza un sotto e le scartate al momento che tutte e se le carte sono nella pila degli scarti dovete per recuperarle fare un'azione di riposo breve le ripescate tutte quante queste carte però una la dovete scartare ma non va nella pila degli scarti va nella pila delle carte consumate che non sono più recuperabili quindi è anche un fatto di energia e di turni contati perché prima o poi il vostro personaggio sarà talmente stanco da non avere più carte in mano e quindi la missione sarà un fallimento potrebbe fallire così come potrebbe anche fallire arrivare a 0 punti ferita finite per terra e finendo per terra almeno che un incantesimo non vi riporti su siete fuori dalla partita e se tutto il party è fuori dalla partita dovete rifare il match praticamente il setup e tutto ed è veramente un gioco molto interessante spiegato velocemente perché poi ci sono armi magiche incantesimi bonus vari quindi comunque il vostro bonus potrebbe salire e scendere a seconda anche dell'equipaggiamento che portate e mano a mano che portate avanti la storia leggete sul libro cosa dovete fare la strada da prendere prendete un nuovo adesivo e lo mettete sulla mappa consiglio metteteceli tanto è bellino anche da vedere e se lo volete rigiocare poi tranquillamente potete rigiocare anche con quella mappa lì se invece non volete mettere adesivi sulla mappa potete segnarvelo su un foglietto da qualche parte in conclusione Gloomhaven Joes of the Lion come il suo fratello maggiore è secondo me uno dei dungeon crawler perfetti onestamente parlando non è il mio preferito perché ma non perché non sia il migliore a livello di regole e a livello soprattutto di quello che potete fare in questo open world ragazzi qui dentro non c'è un gioco da tavolo c'è un Morp c'è World of Warcraft qui dentro per davvero per le cose che potete andare a fare mesi per finire sta scatola Gloomhaven normale io penso c'è gente ci fa la campagna da un anno con gli stessi personaggi e però a me piace di più una cosa un pochino più aleatoria a me piace tirare il dado io sono così a me i giochi di carte non è che non fanno impazzire però mi piace più la classica sfiga tiro il dado no l'ho mancato e ora se lui mi becca mi ammazza rispetto che andare a tirare fuori una carta e sapere già quanto farò di danno preferisco tirare il dado alla ira questi io sono fatto così però sono gusti personali qui no ci sono le carte modificatore però bene o male con le carte che te ti sei scelto messo in campo non puoi fare una tattica sbagliata perché lo sai anticipatamente quello che vai a giocare quindi sì c'è un contenuto un po' aleatorio ma sicuramente 20 volte in meno che un hero questo concludo dicendo che Gloomhaven Joes of the Lion è un gioco per tutti secondo me anche per i più giovani sì c'è un po' da spiegarle qualche regoluccia sulle carte l'iniziativa però fondamentalmente avete due carte in mano a turno una ti dice cosa fare e un'altra ti dice cosa fare una ti muovi una ti attacchi una prende il tesoro uno non lo so tiene un incantesimo quindi comunque come gioco è semplice le componenti sono veramente tantissime all'interno e ben riprodotte e secondo me è un gioco assolutamente alla portata di tutti ma ancora di più per i nerd che vogliono fare gruppo e passarci veramente delle serate e magari per finirlo buttarci anche un mese barra due ricordo che se lo volete ordinare primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla giocolibreria Simola nostro negozio sponsor non solo al miglior prezzo sul mercato ma come vedete a nota e sempre in descrizione usate il codice discount Coridan7 tutto maiuscolo per avere uno sconto del 7% e per spese superiori a 79 euro spedizioni postali gratuite in 48 ore ordinate varie a casa non in Italia ma in tutta Europa quindi sopra i 79 euro usando il codice sconto c'è anche questa possibilità delle spese postali gratuite c'è in lista perché l'ho visto ma se fosse finito zero copie rimaste in magazzino o non ci fosse in lista scrivete al supporto a Corrado al proprietario della gioco libreria Simola e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e soprattutto se un gioco è appena uscito così lo troverà anche facilmente fatemi sapere un po' cosa ne pensate per me e per tutti gli amanti dei fantasy e dei dungeon crawler assolutamente passato a pienissimi voti ringrazio ancora una volta a Smo d'Italia e al prossimo video ciao ragazzi a Smo d'Italia